Marcello Ascani con Anime Investimenti del 2023. Il video ormai è più di un mese fa, 12 febbraio, però noi ce lo guardiamo adesso, ok? Ciao ragazzi, come ogni anno, aggiornamento, recap sui miei investimenti. Comincio un po', mando avanti, non è cattiveria ma non possiamo sparare mezz'ora di reaction. Qui parla solo del suo conto personale. Con il mio conto personale, sai, io non sono uno spendacione, non spendo quasi niente, in realtà quindi quando ho tanta liquidità la investo. La teoria generale è quella di avere un cuscinetto di risparmi liquidi cash dal conto in banca e tutto il resto invece è investirlo perché non ha senso tenerlo fermo in banca. Il mio cuscinetto cash è abbastanza grande, copre più di un anno di spese, più di quello che io consiglierei agli altri di tenere da parte semplicemente perché io... Un anno di spese, sono tanti, sono tanti, per cui Marcello andiamo più sul prudente, mi piace fino adesso. Forse è un po' troppo, nella sua posizione potrebbe tenere meno liquidità, però è irrilevante. Parliamo di cifre costanti, quindi non è un ODN, ma è OD1. È una vita un po' caotica, meno stabile rispetto al normale e quindi avere più cash... Lo posso velocizzare per non schifare. Non solo per le inconvenienze ma anche per le opportunità. Pensate che lo scorso anno per un periodo pensate che avrei comprato un piccolo di Renobali, per cui mi servivano comunque 30.000 euro, fosse un po' di più cash da spendere subito. Alla fine l'opportunità è sfumata però. Ok, sta giustificando il fatto che vuol tenere più cash di quello che sarebbe saggio. Perché? Perché vuole poter sfruttare opportunità quando capita. È successo che stava per comprare un terreno a Bali, che poi non è successo. Ecco, non avrei neanche potuto accoglierla se non avessi potuto soldi sul conto. Per cui tengo un po' più di liquidità del normale sul conto. Tutto il resto lo investo. Come lo investo? Con il famoso piano di accumulo. Cioè ogni mese io investo una cifra, a prescindere da come stiano andando i mercati. E lo faccio perché poi io comunque mi... Allora, non sono un grande fan del piano di accumulo. Purtroppo in Italia è efficiente. Nel senso che con molti strumenti, con la maggior parte dei servizi finanziari, fare un piano di accumulo è conveniente anche dal punto di vista delle fee. Penso ad esempio a quello che sarebbe il mio broker preferito se fosse in Italia, che è Fineco. Con Fineco il piano replay è abbastanza efficiente, economico. Rispetto a ogni altra cosa che fate al di fuori di replay con Fineco. Se in Fineco riuscite a non ascoltare Advisor e possibilmente o a fare replay o ad essere under 30 o ad avere più di un milione, con queste tre condizioni Fineco è... trovo che sia un ottimo. Non ho nessuna affiliazione con Fineco. È un ottimo prodotto. Per cui io tornassi in Italia andrei con Fineco. Ho anche visto in questo viaggio milanese gente con molti più soldi di me che usa Fineco, private, banking e con costi bassissimi. Anyway, quindi non sono grande fan dei piani di accumulo, anche se purtroppo in Italia sono piuttosto efficienti. Io sono più fan del ogni mese prendo i soldi che ho deciso di investire e li metto laddove manca per ribilanciare. Il pack prevede che io ogni mese investa le stesse quantità negli stessi prodotti e l'eventuale ribilanciamento devo farlo io a mano. Io preferisco ribilanciare quando investo soldi extra. Ricapitolando anche un po' la storia dei miei investimenti, io ho iniziato appunto nel 2018 con Moneyfarm investendo 400 euro al mese, arrivando poi nel 2020 ad iniziare ad investire anche con Tinaba, che è un altro RoboAdvisor, sia Moneyfarm che Tinaba. Ha menzionato un paio di RoboAdvisor che non commento ancora, quando andrà in dettaglio sui portfoli che ha con questi RoboAdvisor li commenterò. Il video dello scorso anno è il capo degli investimenti in cui ho detto che avrei iniziato anche a investire. In realtà significa che a prendere le decisioni non sono dei robot, sono degli umani, quindi sono dei consulenti finanziari, sono servizi di risparmio gestito. Questi umani però fanno dei mani. Che significa? In realtà significa che a prendere le decisioni non sono dei robot, in cui ho detto che avrei iniziato anche a investire autonomamente. Questa sono Moneyfarm e Tinaba, come ho detto, sono due RoboAdvisor. Che significa? In realtà significa che a prendere le decisioni non sono dei robot, sono degli umani, quindi sono dei consulenti finanziari, sono servizi di risparmio gestito. Questi umani però fanno delle scelte che vengono poi applicate sui singoli portafogli da degli algoritmi e per questo RoboAdvisor ha fatto anche un... Quindi sta affermando che Moneyfarm e Tinaba in realtà non hanno... Cioè, sono degli umani che fanno delle scelte e vengono implementate algoritmicamente. Così fosse... Penso che non sia correttissima la definizione. Non la so, non la so. Non è una definizione di RoboAdvisor questa qua. Perché implica una strategia attiva. Non sarebbe alcuna differenza tra questo e un fondo attivo. Andiamo avanti. Un video dedicato solo a questo. Con tutti i consulenti finanziari la prima cosa che ti fanno fare è... Di fatto è così ma è sbagliato. E la stessa cosa infatti è con Tinaba e con Moneyfarm. In questo questionario ti fanno delle domande. Domande volte a capire quanto è lungo il tuo orizzonte di tempo e quanto ne sai di investimenti. Più è lungo il tuo orizzonte di tempo e più ne sai di investimenti, più potrà essere rischio sul tuo portafoglio. Infatti tutti i RoboAdvisor hanno il loro modo di gestire i portafogli ma principalmente sono numerati. Il portafoglio 1 è il meno rischioso e il portafoglio 6, 7 o 8 sono i più rischiosi. Con un portafoglio rischioso si intende un portafoglio che all'interno ha degli assets, dei titoli, dei pensieri che uscite. Ok, 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 andiamo avanti. Ad oggi quindi come vanno i miei investimenti? Ci siamo lasciati lo scorso anno appunto che avevo Moneyfarm e Tinaba e basta praticamente. Adesso ho Moneyfarm e Tinaba, un conto su DeGiro che è un broker dove io scelgo io i miei singoli ETF e anche un investimento in criptovalute. Vi parlerò prima di Moneyfarm e Tinaba, poi dell'investimento su DeGiro. Quindi abbiamo quattro prodotti più il cash che lui dichiara di tenere circa un anno di spese. Quindi il cash ci interessa relativamente e via. Come mai ho deciso di iniziare a investire per i cavoli miei lo scorso anno? Semplicemente perché ormai ho le competenze per comprare da solo i miei strumenti. Posso espormi di più sull'azionario, sapete il motivo perché l'ho appena detto, e posso risparmiarmi le commissioni dei RoboAdvisor. Ho paura a mandare avanti. 5, 7, 7% in base agli sconti, in base alle promozioni. Si possono girare anche intorno all'1% anno che non sono sul breve termine, su piccole cifre sono banali, ma sul lungo termine, su grandi cifre diventano commissioni importanti. Ha parlato dell'impatto dei fee sul lungo termine, quindi di investire in proprio piuttosto che lasciare investire i soldi a qualche entità che sia un RoboAdvisor o qualcun altro, qualunque altra forma di supporto, ha dei fee che anche se fossero piccoli, anche con un 1%, integrarlo su 30 anni, sono tanti soldi. Questo qui in genere è un buon argomento. Poi, man mano che si investono anche tanti soldi, è conveniente imparare a comprare autonomamente i propri etf. Purtroppo delle persone che io conosco, delle persone che mi scrivono, che vedo in giro, 99 su 100 non sono in grado di scegliere i propri etf, non solo a livello tecnico, ma anche a livello psicologico, non sono in grado di resistere la tentazione di comprare singole azioni, resistere la tentazione di comprare i momenti di uffrire, di prendere i momenti di panico. Per cui, a questa costa di meno ed è più efficace per investire, è più adatta a tutti. È chiaro che è un po' inefficiente rispetto a gestire autonomamente gli investimenti. La cosa più efficiente in assoluto è imparare a investire, imparare a scegliere i tf, diventare competenti e sceglierli autonomamente. Ed è quello che sto facendo io. Per tutto il 2022 io ho continuato a mettere soldi 750 milioni su Linebao, 750 milioni su Modifar. Perché la maggior parte di questi, come Trading212, Plus500, e Toro. Trading212, la mia zizzanetta che lo usava. E Toro, Mascia, e Toro. Sono tutte piattaforme che principalmente vi fanno investire in CFD. Che senza andarci a dilungare in tecnicismi, forse l'ho già detto anche in video passati, sono strumenti derivati che non vi fanno investire direttamente le sottostante. Ma sono strumenti che imitano le sottostante. Per cui un CFD sull'azione Tesla, se lo compra attraverso un broker, di fatti voi state donando soldi al broker. E poi lui, si, ti ha Tesla, per esempio. Chiaramente lo devi fatti verso un broker, ma il broker prende i tuoi soldi e poi li utilizza per compito. Contro il broker, questi che io non voglio avere, non voglio giocare contro un casino. Per cui io, nelle piattaforme... Sta dicendo che molti di questi broker in realtà non ti vendono stocks, ma dei CFD. Per cui in realtà il broker ti garantisce il ritorno del sottostante senza farti comprare il sottostante. Che sinché è roba brutta, perché se il broker salta, tu hai dei CFD, potresti non avere niente in mano. Non ho modo di... Cioè, non lo so. Non lo so. Non lo so se è così. Questo ammetto che non lo so. Le trading classiche non investono in CFD. Non lo sapevo. Infatti sono proprio le piattaforme che poi spingono l'utilizzo della leva, che è molto rischiosa ed inutile per la maggior parte degli investitori retail piccoli come noi. Spingono il trading, tutte queste rischiose che fanno a perdere soldi. E casualmente invece tutte le altre piattaforme, come le banche o quelle che fanno investire i suoi sottostanti, sono molto più seri da questo punto di vista. Finora, nulla da recepire. Ottima giustificazione, ottima spiegazione di come alcuni broker ti spingono la leva, altre cose. Finora, bravo Marcello. Incluso anche le banche, che sono chiaramente molto serie, istituzionali, e quasi nessuna banca ti fa investire in CFD, ma fanno schifo le piattaforme di trading delle banche. Ti chiamano, hanno commissioni molto alte. Non sono a passo con i tempi. Concordo, bravo. Le piattaforme di trading sono super a passo con i tempi, sono tecnologiche, da smartphone, telefono, tutto veloce. In Italia abbiamo qualche banca che ci prova, ma a me non mi piace. Rimangono poche piattaforme di trading più professionali. La più professionale e famosa al mondo siccome Interactive Broker, è solo stato un passo così da utilizzare in te. E mer.rip slash eb. Non è che è però la più famosa, la più... Ce ne sono anche altre, nel resto del mondo ce ne sono anche altre. In America ci sono altre due o tre simili, come E-Trade e Ameritrade, sono altre molto grandi discount broker alla Interactive Brokers. Però, ok, eb è quella che si sente più spesso nominare in Europa. Interactive, solo che è un po' complicativa Interactive Broker, ha tante funzionalità che a me non servono. Per cui, alla fine ho ripiegato sull'unica che conoscevo che era rimasta, che è DeGiro. Europea, molto seria, prima di farti investire in strumenti derivati ti fa sempre fare dei questionari, non punta a farti rischiare, ma semplicemente perché non hai un incentivo per fartelo fare. La mia opinione su DeGiro è Mixed, è comunque uno dei miei suggerimenti che do spesso a chi non sa su quale broker utilizzare e vive in luoghi dove i b non è necessariamente vantaggioso, come in Italia ad esempio. Non è l'unica piattaforma che viene da consigliare, ad esempio in Svizzera ce ne sta almeno un'altra abbastanza buona, che è Swissquote, però ecco, tornassi in Italia, ho detto, potrei andare da Fineco, Andrei, e se, non so, Marcello adesso vediamo se parla di patrimonio, non me lo ricordo, se avesse un patrimonio di almeno mezzo milione investibile, anche a lui suggerirei di andare da Fineco, DeGiro probabilmente è la piattaforma che, così, senza aver fatto altre ricerche, che potrei utilizzare se avessi un patrimonio che non va oltre una certa cifra. Perché i b in Italia non conviene? Troppe commissioni? A parte che i b in Italia ti appioppano i b Central Europe o i b Ireland, io sono ancora agganciato ai b UK, che ha commissioni più basse, ti dà accesso a ETF americani. I b in Italia, lo svantaggio sono due svantaggi. Uno è il fatto che, comunque è uno strumento superpotente e complicato, è come se voi entrate dentro a una cabina di pilotaggio di aerei, cioè mille bottoni, può essere un po', è molto, che in realtà per me è un vantaggio, però se uno non ne sa un granché, vuole uno strumento facile, questo è molto potente, ma è un po' come avere una macchina al cambio automatico e poi una macchina al cambio manuale, cioè devi fare un po' più di fatica, quindi è un po' più difficile da usare, ma più potente, per cui dà possibilità di fare cose più potenti. Per assurdo, hanno delle API, puoi scriverti il tuo front-end con le API loro. L'altro svantaggio è che non ti fa quei documenti fiscali, non è pensata per la fiscalità italiana, sono gli unici svantaggi. ...e guadagna sulle commissioni che tu vinci o che tu perdi, e quindi ho scelto The Giro, perché già conoscevo anche perché altri youtuber ne hanno parlato. Io stesso sono stato influenzato da altri influencer, tra cui Pietro Michelangeli e tanti altri. Mi ci sono trovato bene su The Giro, non ho scontrizzato questo video, non è neanche semplicissimo, onestamente, cioè è intuitiva, ma se non è un niente di mestichezza non è a prova di scemo, fortunatamente. Madonna, questo video è pieno di digressioni, però servono, ragazzi. No, ci sta, bravo, fino adesso bravo Marcello, bravo, bravo, bravo. E non lo dico perché è amico, anzi, ma adesso lo cazzierò, però fino adesso ottime considerazioni e un bel messaggio anche per i giovani. La storia che ha raccontato attorno al fatto che lui ha sia RoboAdvisor che investimenti con broker indipendente è il prima non mi sentivo pronto, usavo un RoboAdvisor, ora che mi sento pronto investo anche per conto mio, la domanda è perché ancora usi RoboAdvisor? Ora lo vediamo. Cacchio di investimenti. Chiaramente il risultato sul Money Farm che vedete adesso. Money Farm, quara, mamma mia, che cavolo di risoluzione abbiamo? 4,80, dai, crediamoci, 7,20. Money Farm. Portafoglio 3 è il rischio? Livello 3,7. Uh, portafoglio 3 è molto basso il rischio. Questo è un portafoglio da boomerissimo. Questo è tutto quello che è successo dal 2018 fino ad adesso. Come vedete, infatti, il mio portafoglio, nonostante l'ultimo anno sia andato molto male, è comunque in guadagno. Io ho messo dall'inizio 41.100 euro e mi ritrovo con un controvalore di 42.676 euro. Quindi voi direte, wow, che bella performance. In realtà, una performance del genere a fronte di 4, 5 anni di storico è molto molto poco. Questo perché, come possiamo vedere qua, dal 2020 le borse sono andate molto 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 bene e poi, nel 2022, hanno iniziato, proprio da gennaio fino alla fine dell'anno, ad andare molto male per mille fattori. In effetti, comunque, una performance abbastanza brutta. Sono 4-5 anni e è abbastanza brutta, eh. Abbastanza brutta. Oggi parlavo con un mio caro amico, youtuber, con circa 300.000 iscritti, che parla di personal finance, e parlavamo delle underperformance di Money Farm anche al netto dei fee. Non dico con chi stavo parlando. ...la guerra, tanti fattori che ci portavamo dal covid in realtà, l'inflazione, tutta una reazione alla catena di cose. Non ci interessa perché in realtà adesso i mercati sono andati molto male. Qua possiamo vedere che, come dire, il controvalore comunque un po' si è alzato, per cui a gennaio 2022 il controvalore era da 38.000, ora è 42.000. Cioè, il valore è cresciuto di 4.000 euro, ma io glielo ho messo i 10.000 all'interno, o 8.000, per cui in realtà ho perso soldi nell'ultimo anno. Andiamo a vedere l'asset allocation, livello di rischio 7 su 7, quindi nel netto, ho visto 3 su 7, avevo visto, forse mi sono sbagliato, forse è il terzo portfolio, è più di un portfolio. Questo è il livello di rischio massimo. Abbiamo visto, livello di rischio massimo, Moneyfarm ti dà 75% stocks, 8% che poi adesso, domani cambiano asset allocation, c'è un portfolio manager che decide cosa fare, quindi boh. Con questo è il top del rischio e stiamo ancora a un 75% stocks. Perché Moneyfarm non offre un portfolio 100% azionario? Cioè, livello di rischio 8, 100% azionario. Qual è il problema? C'è qualcuno che vuole 100% azionario, perché non c'è? Anyway, andiamo avanti. Inflazione. Sarà una bond indicità dell'inflazione. Asset allocation del mio portafoglio. Cosa vuol dire asset allocation? Come ho detto prima, Moneyfarm investe i nostri soldi su degli ETF, gli ETF sono degli strumenti, sui vari asset, che sono i vari titoli di Stato, valute, in modo molto semplice. Sono pochi strumenti in tutto. Andiamoci a concentrare sull'azionario. Allora, allora, qui ci divertiamo un po'. Vediamo un po'. Troppi strumenti, Moneyfarm? Moneyfarm che comunque ti racconta che ti dà un fee dell'1%, scende forse, non vorrei dire cose inesatte. C'è un fee di gestione più IVA, IVA esclusa, il prezzo che vedete su Moneyfarm. Io non posso accedere a Moneyfarm.it. Mi servirebbe una VPN, mi servirebbe. Non posso accedere a Moneyfarm.it. Mi sembra che si riusciva ad andarci, ma si parlava di un 1%, 1.2, 1, scendeva a 0,8 dopo un bel po'. Quindi parliamo 1% più IVA, più i costi dei sottostanti, più lo spread, più il currency conversion. Quindi arriviamo tranquillamente a 1.5, 1.6. Vediamo però cosa fa. Cioè, sarebbe sufficiente investire in non moltissimi prodotti. Non moltissimi. Quindi vedo già troppi, ne vedo. Bond governativi a 10 anni. Bond governativi globali. Purtroppo non vedo bene il dettaglio, ci sono dei puntini. Bond governativi USA, indicizzati all'inflazione. e bond corporate, no, gov emergenti, high yield, quindi qui stiamo nella sub investment grade. Quindi qui abbiamo, che percentuale parliamo? Che percentuale? 1000, 1000, 2000, 1000. Va bene. Governativi americani, indicizzati all'inflazione così, così, per scelta. C'è molto poco passività qua dentro. Azionario Europa, azionario USA. Azionario Europa più alto degli USA. Azionario Europa, 3100. Azionario americano, che è tipo il triplo dell'Europa come market cap, meno dell'azionario Europa. Wow. Giappone così debotto senza senso, più o meno quanto l'americano. Ma che è sta merda? Ah no, c'è qui, c'è qui l'S&P 500. E questo che? Questo è l'S&P 500? Sento puzza di currency edging. Sento puzza di currency edging. Oro fisico, ma... Nah. Come vediamo, l'azionario è molto esposto sull'S&P 500, che è l'indice americano delle azioni americane. È lo stesso su cui io investo autonomamente poi su DeGiro. Vediamo che abbiamo l'iShares, che è la casa fondi che crea il fondo. L'iShares abbiamo ben 16.000 euro su 40.000, sono tanti. Più altri... IShares non l'ha letto lui, non lo vedo qua. Però immagino, quindi questo qui sia CSPX. USA S&P 500 sarà CSPX. Sarà questo qua. Se è iShares, se è S&P 500. Il listing c'è CSPX o CSSPX. CSSPX o CSPX. Immagino sia questo qua, che l'ho avuto anch'io per un bel po'. È un bel ETF, questo qui sì. Il resto purtroppo non vedo ticker, non vedo niente. È difficile giudicarlo. Difficile. 200.500 euro su 40.000, che sono tanti. Qual è la differenza tra questa S&P 500 e quest'altra S&P 500? È che uno è coperto da rischio di cambio. Ah! Currency edging! No! No! Currency edging è una merda! È una merda sulle stocks. È una merda. È però una merda sulle stocks. No! Poi S&P 500, più global di così. Le stocks global, no! Currency edging. Money far male, molto male. Chiaramente, essendo un fondo americano, uno strumento in dollari, io mi espongo anche a rischio del tasso a euro-dollaro. Se compro uno strumento in dollari, guadagnerà di più se il dollaro guadagna soldi. Infatti, nonostante le borse siano andate male, alcuni miei investimenti sono andati bene, quelli personali perché... Sì, ma solo perché il dollaro è andato giù l'anno scorso, per cui ho detto, ah che figata. In realtà, l'expected return è comunque neutro, ma stai pagando l'assicurazione del currency edging. Nel mondo delle stocks, a mio avviso, è stupida. Nel mondo dei bond ci può aver senso, nel mondo delle stocks, a mio avviso, è stupida. Il cambio euro-dollaro poi è stato favorevole. Nicola Cariola, perché no currency edging? Potresti spiegare perché intanto il currency edging costa. Quindi stai pagando un'assicurazione. Un'assicurazione che è un fee che metti on top al resto. Si può fare backtesting tranquillamente. Sarebbe interessante se il buon Paolo Coletti, se riusciamo a vedere un video di Paolo Coletti, fassi un backtesting sul currency edging. Quindi è una richiesta a Paolo Coletti, lui che ha più dati. Però nel mondo azionario, supponendo che le currency abbiano un expected movimento neutro, perché non sappiamo euro-dollaro in che direzione andrà, non c'è nessun motivo per pensare che ci sia un trend, altrimenti sarebbe sfruttabile in leva e sarebbe abbattuto il mercato. Le aspettative in teoria sono che qualunque currency pair si muova nel lungo termine seguendo differenze di tassi di interesse tra le due nazioni. È uno dei segnali, non è l'unico. Sono varie euristiche. Comunque in generale, se assumiamo euro-dollaro da qui a 10 anni con expected return a zero, non so se volete fare un'assunzione diversa, liberissimi, però a mio avviso, se devo dire quanto è secondo te il cambio euro-dollaro fra 10 anni, quello di oggi. Non ho alcun numero per dire più o meno. Se assumiamo questo qui, le fluttuazioni in mezzo sono irrilevanti. Se poi abbiamo stocks globali, le stocks globali, cioè aziende globali che vendono in tutto il mondo, in caso di crollo della valuta in cui sono quotate, hanno sicuramente un aumento delle entrate in quella valuta in quanto vendono bene i servizi in tutto il mondo. Pensiamo a Nestlé. Nestlé è quotata in Svizzera, ma ha tipo il 98% del business fuori dalla Svizzera. Quindi se il franco svizzero crolla, mettiamo che domani un franco svizzero crolla e ci vogliono 10 franchi per fare un euro. Cosa succederà alla stocks Nestlé? Probabilmente farà 10 per o più o meno 10 per, perché tutti i Nesquik che vende in Europa, il cui prezzo è rimasto costante, valgono 10 volte tanto in franchi svizzeri. E quindi una stocks globale è di per sé una currency e migliore delle altre currency a meno di fluttuazioni. Quindi un ETF, una share di un ETF è la miglior currency che si difende meglio verso le inflazioni delle altre currency. probabilmente sto semplificando, però questo è il concetto. Ok? Quindi, perché Marcello ha fatto la doppia scelta di S&P 500? Non ha scelto niente, questo è Money Farm. Money Farm implementa queste cose. Cioè tu a Money Farm ti fanno un test, il Mifid test, in base al tuo profilo di rischio che dicono tu puoi prendere un portfolio di livello 5, di 5, 6, 7. Una volta che il portfolio è stato scelto, quello è, tu non hai modo di customizzarlo. In magazzina Nesquip. Quindi se avevo asset in dollari, anche come in questo caso su Money Farm, le cose non sono andate molto male. Invece quello coperto da rischio di cambio chiaramente bilancia le cose, per cui fa come se non esistesse il cambio. Abbiamo poi qua... No, a meno del costo del bilancio del currency aging. Un azionario Paesi Sviluppati, MSC E-World, un azionario Giappone, che sa perché è esposto solo sul Giappone questo, e un azionario Europa, quindi vediamo la diversificazione molto geografica. Un portafoglio, devo dire, molto tranquillo, molto classico, lo stesso che farei io. Sì, non è malissimo, non è proprio la merda assoluta, però già sto pagando di 1,5, già ti sto pagando 1,5 sopra, no? Cioè io Money Farm ti pago l'1% più IVA più gli ETF, ti pago l'1,5% l'anno, che è tantissimo, tantissimo. E mi fai pure queste scelte emotive, no? Mettiamoci un po' di Giappone, no? Aspetta, questo facciamo currency aging. Non è quello che voglio, non è quello che sognavo da piccolo, quando da piccolo sognavo un Robo Advisor. Sognavo un cazzo di Robo Advisor che facesse un pacchetto azionario, fisicamente un pacchetto, che rispettasse una strategia passiva senza opinioni e la implementasse. Che avrei anche io le competenze di fare, chiaramente poi monetarmi il bilancio, osciglieri i temi, cose che succedono, però devo dire, anche molto simile al portafoglio che avevamo lo scorso anno, è investito con i classici ETF che conosciamo tutti, i più famosi, principalmente nell'S&P 500 e poi sul mercato mondo e sul mercato emergente. Ok. Vediamo qua un po' di oro fisico, un po' di materie prime, non vedo real estate, rispetto allo scorso anno non c'è neanche un po' di real estate, ma solamente materie prime, quindi non ci sono oro fisico. Comunque devo dire bene. Addirittura qua vediamo lo storico dei ribilanti. Chi se ne frega. Bond investment grade, bond... vabbè, vabbè, chi se ne frega. Vediamo adesso Tinaba che lo vediamo dall'app. Tinaba. Tinaba è un altro, a quanto pare, un altro Robo Advisor. Lo vedete dall'app perché non c'è la versione web. Già, già, se non c'è una UI web non andiamo bene. Per comparare Tinaba e Moneyform io a un certo punto, se non sbaglio a fine 2021, ho bilanciato i due portafogli, nel senso, dato che avevo già una certa somma su Moneyform che era cresciuta negli anni, per fare, chiaramente, il confronto con Tinaba, sono dovuto partire con il portafoglio di Tinaba allo stesso livello, ok? Questo significa... Ok, Tinaba penso che sia un Robo Advisor di banca profilo o una banca con cui lui ha un'affiliazione, quindi lui ha aperto questo secondo Robo Advisor, credo fortemente spinto da un'affiliazione. Significa che chiaramente su Tinaba ho dovuto mettere più soldi miei rispetto a quelli messi su Moneyform nello storico del tempo. Allora, vediamo un po' i fatti investimenti. Abbiamo un controvalore di 40.400... Capitale investito 43.000 contro le 40.000. Ok. Beh, rendimento 4%. 498 euro, quindi minore di ben 2.000 euro rispetto a Moneyform e un capitale investito di 43.857 euro. Vediamo come è andato nell'ultimo anno. Quindi è partito lo stesso investimento su Moneyform e su Tinaba a 2.000 in meno nell'ultimo anno quindi ha perso 2.000 rispetto a Moneyform che è il 5%. Non è proprio una passeggiata. Vediamo cosa è successo. Vediamo che a gennaio 2022 avevamo un controvalore di 38.000 euro praticamente adesso abbiamo un controvalore di 40.000 euro per cui anche qua è salito di 2.000 euro quando però il mio investimento è salito di 8.000. In poche parole è andato male tanto quanto è andato male Moneyform devo dire. A seguito il mercato è abbastanza inutile confrontare per solamente un anno o solamente due anni i risultati dei due servizi anche perché non fanno altro che investire nel mercato per cui c'è sono su due servizi così simili che è difficile che uno vada tanto meglio dall'altro o tanto peggio dall'altro molto persone mi scrivono proprio fammi vedere il confronto fammi vedere il confronto quando io il video di confronto sul servizio l'ho fatto e magari sono là che sono le differenze però vuoi un tipo di assistenza vuoi vedere le commissioni vuoi vedere le cose là c'è il grosso delle cose sulle performance Mori Farm è andato meglio perché currency edging in realtà mentre lo dicevo ci pensavo quando il dollaro va giù cioè in realtà nel 2022 il dollaro è andato su quindi in teoria non è meglio nel 2022 dollaro se prendo euro usd e lo prendiamo su cinque anni cioè nel 2022 euro dollaro è andato giù il che significa che dollaro euro è andato su vuol dire che il dollaro ha guadagnato sull'euro per cui in teoria non è stato molto utile il currency edging in questo caso ci dicono molto poco qua nel breve termine però io ve l'ho detto ci interessa forse un po' di più vedere la composizione del portafoglio perché è molto differente e dopo vi dirò anche secondo me Iger dice io ho lavorato per TINAB confermo c'è l'omino che prende le decisioni su asset allocation e ribilanciamento per foglio quindi è identico a una gestione patrimoniale attiva cioè cosa ha di perché chiamarlo robo-advisor cosa ha di robotico cioè potrei perché chiamarlo robo-advisor nel senso che io metto dei soldi in un fondo comune di investimento e la gestione attiva e il tizio investe in sottostanti che sono ETF ma non c'è niente di robotico niente di advisor in questo caso vediamo che la componente azionaria è un pelo più alta rispetto a Moneyfarm e Moneyfarm se non sbaglio è un 76% qua un 77% quasi un 78% e il resto è in obbligazioni e divise e con divise intendono materie prime immobiliari e tutto il resto che esiste e poi divisi in liquidità e titoli di stato non ti dice quindi quanto è cash e quanto è titoli di stato mette tutto insieme perché i titoli di stato oscillano veramente poco anche qua ci concentriamo sugli strumenti azionali vediamo che c'è una grossa differenza rispetto al portafoglio di Moneyfarm perché la diversificazione in Moneyfarm è solo geografica come abbiamo visto è americano Giappone emergenti e mondo qua invece abbiamo tutti gli ETF e le operazioni sono automatiche e non manuali vabbè chi se ne frega l'immissione degli ordini sulle stock exchange sono automatiche chi se ne frega però è la stessa identica cosa di avere un portfolio gestito da una come si chiamano le SIP le SIM no come si chiamano le società di gestione non lo so come si chiamano ma è uguale a dare i soldi andare in banca e dargli i soldi per la gestione patrimoniale è identico vedete no fanno solo il ribilanciamento ogni sei mesi sì ma se la strategia è attiva potrà essere che lo stratega decida di non ribilanciare perché conviene fare così quindi è identico è identico a un fondo attivo quindi chiamiamolo così e via abbiamo per esempio un momento un momento un momento ho visto già roba che non mi piace azioni aree euro xtrager eurostox 50 quindi top 50 azioni europee non malissimo non malissimo i share smart city infrastructure in dollaro eggiato currency edge in euro no azioni aree eb ing clean energy perché perché i settoriali perché non i settoriali i settoriali sono essenzialmente un modo per avere più asset ma correlati tra di loro quindi essenzialmente investire nei settori è un uncompensated risk quindi stai prendendo stesso expected return con molta più volatilità e quindi stai riducendo il tuo risk adjusted return expected return quindi i settoriali a me non piacciono può aver senso investire in qualche settoriale o tematico i settori sono tipo quei 20 settori ufficiali c'è financials industrials tech bla 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 sono settori per cui sono classificate le aziende al momento del listing tematici sono ancora quelli più sfumati tipo clean energy è un tema electric whatever è un tema smart city infrastructure è proprio un tema di nicchia 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 tematici sono ancora più alta volatilità e ritorno atteso uguale al resto del mondo con un altro layer che è quello del i tematici spesso nascono sul momentum cioè dove stavano gli etf tematici su clean energy prima che arrivasse tesla sempre dopo arrivano i tematici un settore è andato a bomba creiamo il tematico marijuana investing solo dopo che tutto è finito i tematici arrivano sempre da mentre i settoriali esistono dall'alba dei tempi puoi prenderti un etf financials quando vuoi potevi farlo tanto tempo fa puoi farlo oggi puoi farlo domani non farlo i tematici nascono sempre dopo che il trend ha già dato sembrano come i corsi di dropshipping quelli in cui ti spiego le cose come funzionavano dieci anni fa che adesso non funzionano più quindi abbiamo detto clean energy perché? health care perché? poi tutto euro tutto euro tutte aree euro 9 più 7 16 17 24 31 35 36 fai 36% siamo solo area euro e già 36% su 70 siamo già metà azionario area euro perché metà azionario area euro? health care perché? ok? questo è uno azioni area euro cioè questo sopra euro stocks 50 vabbè e questo è i share ed sarei educational altro settoriale altro tematico vabbè ma invece abbiamo tutti i etf tematici praticamente abbiamo ad esempio i shares smart city e infrastructure quindi un etf sulle aziende di infrastrutture penso europee questo sull'energia guardiamo facciamo così va ho voglia di farmi due risate andiamo a vederlo com'è sto etf andiamo a vederlo a parte già partiamo ecco altro problema dei tematici settoriali è che in genere costano 0,40 a lei e questo è un top della fiditina i ritorni sono poco rilevanti sono poco rilevanti perché sicuramente nel 2021 guarda qua ecco becca di stagia pocciata però adesso è irrilevante vediamo un po' qualche documento dove sta dove sta il fact sheet ok abbiamo detto 0,40 abbiamo detto dollari abbiamo detto era currency edge non mi ricordo è molto è americano molto americano è i settori industriali e IT ovviamente c'è questo odier che mi spaventa PM medio 20 per price to book 3.1 ok comunque pensavo più growth invece non è neanche così tanto growth ok comunque 0,40 di ter non te lo tirano non te lo regalano se non i tematici e i settoriali quali allora quelli non tematici e non settoriali no theme no sector molto semplice se vado su justtf e tf screener e vado su non lo so equity ok e mi prendo che settore nessuno no sector che tema no theme rimangono quelli globali ci sono ancora delle strategie tipo volatility bla 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 ma no sector no theme che strategia oh guarda quante strategie no strategy che nazione guarda che nazione guarda che regione che regione tutto il mondo sono 35 eccoli qua Vanguard All World Vanguard All World Distributing UBS UBS Spider MSI Acqui UBS MSI Acqui qual è il problema dove stanno gli iShare iShare MSI Acqui questi Spider MSI Acqui fund size enorme fa 0,40 no li ordiniamo per Ter ecco qua Spider a 0,12 c'è un Vanguard VWCE sarà a 0,12 che problemi abbiamo un X-Tracker a 0,12 di Ter qual è il problema un'altra cosa particolare è che vediamo che poi nonostante la strategia sia un po' diversa tra l'altro di settore vediamo che è anche geografica perché c'è un investimento ok questo è il resto del portfolio di Inab azioni paesi emergenti Amundi ok MSI Emerging Market ETF Euro ad accumulo quello è ok di per sé quello è un tassello buono è un piatto buono in questo ristorante che serve piatti non proprio tutti quanti buoni azioni mondo e però perché il 7,7% sul mondo e il 9,63 sono mercati emergenti questi non hanno idea chi sta lì dietro e c'è una scimmia forse che preme tasti e comprati F non l'ho capito non l'ho capito Credit Suisse vai Dai a The Credit Suisse ESG leader hedged in H Eur e currency hedged in Euro perché tre azioni in mondo vi spiego subito uno è dove sta uno è UBS Acqui quindi è All Country World Socially Responsible è tipo ESG è hedgiato Euraged ad accumulo quest'altro è World ESG Leaders hedgiato in Euro onestamente questi due mi sembrano molto uguali sembrano molto uguali eccolo qua UBS UBS andiamo subito a vedere 0,33 io sta in media dallo 0,25 dei costi del sottostante devo ancora vederli quelli che stanno sotto 0,25 però amico mio UBS Social Irresponsible è giato in Euro Ale ok l'altro qual era? l'altro era facciamo così comparison dove sta aggiungi compare compare aggiungiamola a quest'altro IE 0,0 BKK FT IE IE 0,0 BKK FT IE iniziale è sempre Ireland Irlanda RFT 300 300 eccolo qua quest'altro di Credit Suisse se esiste ancora mi sembra che tracci non lo so Euraged World ESG Leaders facciamo compare e andiamo a fare compare selection in detail quindi compariamo i due allora allora ISIN l'indice questo forse è all country world questo qui è soltanto ok già ci parte qui abbiamo soltanto mesi sviluppati qui abbiamo all country world low carbon select 5% issue caps non lo so sono irrilevante irrilevante sono sono esattamente molto correlati possiamo dire che sono molto correlati ma proprio tanto tanto eh a tre mesi vabbè sono la stessa sono la stessa roba sono la stessa roba non ha non ha non lo so si vede che a TNAB hanno fatto accordi con Credit Suisse accordi con UBS ehi dovete investire x soldi sui nostri portfolli non lo so non ha non ha senso il terzo azioni mondo beh il terzo non è un mondo il terzo è globale ma è LNG cyber security c'è un etf di cyber security non ha senso compararlo con gli altri cioè è irrilevante questo qui è un cyber security etf ok guarda il ter dell'etf cyber security ok grazie che mi hai messo qua il bravi se volete se mi copincolate qualche IBAN lo cerchiamo IBAN qualche easing lo cerchiamo al volo è più facile tac eccolo qua un bel un bel etf cyber security vediamo il ter rullo di tamburi oh se la media dei sottostanti è 0.25 questo qui sicuramente sarà tipo 0.01 per bilanciare quegli altri molto alti attenzione 0.6 pensa tu tu che hai 20k tu hai 20k euro gli paghi l'1% di fee più 0.22 di IVA 0.23 di IVA 0.7 di sottostanti siamo già oltre il 2% stiamo per pigliarti che cosa un etf di cyber security wow quanto spacca vediamo un po' era cool no? oh guardate ragazzi cyber security è stata importantissima sotto covid era importantissima esatto creiamo un etf morto and it's gone and it's gone ok quest'altro materie prime no finora TINAB mi spiace anche nei paesi emergenti tra l'altro di settore qua abbiamo anche aziende responsabili cyber security per il resto invece vediamo che non ci sono investimenti se non sbaglio in materie prime vedo paesi emergenti obbligazioni paesi emergenti obbligazioni societarie titoli di stato liquidità tanta liquidità rispetto a money farm non abbiamo visto i bond sono soldi cash poi il 6% in liquidità cioè sto io sto tu stai pagando l'1% di fee anche su quel 6% che sta in cash che vuol dire hedged e non hedged non hedged vuol dire che non c'è alcuna traduzione così copertura protezione o copertura valutaria copertura valutaria facciamo così per essere più precisi currency hedging e via to hedge a currency a company makes a forward agreement with an investment data to specificamente patria currency on a future date uno dei modi di implementarla se non è il modo migliore per spiegarla uno dei modi migliori per implementarla come strategia è avere un derivato che può essere un option se si vuole essere diciamo un po' più aggressivi io sono un future su un currency payer così da evitare il rischio di currency conversion ok devo farla più facile probabilmente devo farla più facile se tu compri oggi una mela e la paghi un dollaro e domani quella mela al mercato vale un dollaro e mezzo la mela ha fatto più 50% ma se il dollaro è un dollaro dello Zimbabwe e ha perso il 1000% il tuo investimento che ha fatto più 50% in currency nel tuo caso ha perso tantissimo perché tu ti stai misurando in un'altra currency ok ti stai misurando in euro il dollaro è crollato quindi un dollaro e mezzo ci fai poco d'altro canto tu dici ma se un investimento fa più 50% vorrei gustarmelo tutto vorrei anch'io avere più 50% e quindi alcuni prodotti fanno currency hedging cioè si proteggono dal cambio da rischio valutario come lo fanno? lo fanno con dei trick sul currency pair questo è un po' più complicato da spiegare però comprano un'assicurazione che dice ehi io voglio quel rendimento della currency di riferimento nella mia currency compra le mie assicurazioni io voglio questo qua quindi hai che se la mela vada da un dollaro a un dollaro e cinquanta anche tu hai fatto il 50% anche in euro non soltanto in dollari questo dici che figata è bello se il dollaro crolla ci guadagno sì ma se il dollaro cresce ci perdi il che vuol dire che stai pagando un'assicurazione su una cosa che ha un expected return pari a zero GRC già riten certo immagino una bancona di vabbè ok va bene stai spiegando cos'è il currency hedging meglio dovrei prepararmi una spiegazione più veloce preso questa roba qua stato liquidità tanta liquidità rispetto a money 6% liquidità no che sei 10% liquidità 10% liquidità vabbè questa qui liquidità in realtà sono dei bond ultra short term non è proprio liquidità però un 6% che sono soldi cash per cui meno è meglio è per me perché i soldi cash mi tengo in banca da solo a loro servono per poter gestrare i vari ribilanciamenti ah no ma delle prime è inserito nell'azionario non so perché perché comunque un ETF probabilmente e TC in realtà abbiamo visto quindi su entrambi i portafogli più o meno ci sono 40.000 euro vediamo adesso come andava con DeGiro con DeGiro io ho iniziato l'anno ok la review dei RoboAdvisor non è non money farm meglio di Tinnab però è una sfida che non mi affascina tanto eh purtroppo non mi affascina con l'obiettivo di iniziare il mio pieno d'accumulo pieno d'accumulo vuol dire acquisti ricorrenti aggiungerlo a quelli che già avevo quindi io già mettevo le 750 e le 750 su DeGiro Marcello ci parla del suo DeGiro mettendo ipoteticamente altri 750 o altri 1500 sull'SP500 col fatto però che le borse sono scese così tanto io non ho fatto un vero e proprio piano d'accumulo ma ho comprato man mano che le borse scendevano chiaramente quando le borse sono allora Marcello ha detto che era partito con l'idea di fare un piano d'accumulo anche su DeGiro quindi mettendo dei soldi non so se continuano a mettere su Tinaba mettere su MoneyFarm e mettere su DeGiro più o meno piano d'accumulo anche lì però in realtà ha detto che visto che le borse scendevano ha un po' accelerato più o meno secondo i miei stessi bias quando le borse crollano vado di più nel 2022 avevo poca liquidità per cui non ho fatto anche io lo stesso ma lo faccio anche io che non è il massimo l'ideale è sempre essere più robotici possibili quindi seguire la strategia però non è una colpa particolarmente grave lo faccio pure basta in realtà è una grande opportunità per investire se solo sapessimo quando è che hanno finito di scendere c'è un termine un po' meme un po' finanza che è buy the dip cioè compra basso e poi idealmente vende alto così che si guadagna in finanza tutti i cacchi sono scoprire quando è basso e scoprire quando è alto perché meglio evitare non ci pensare ma noi non sappiamo se continueranno a scendere tutto questo per dire che man mano che le borse scendevano io continuavo a comprare chiaramente non potevo tutti i miei soldi perché non sapevo se continuavo a scendere ma continuavo a comprare sempre di più per abbassare quello che in generale si chiama prezzo medio di carico per cui alla fine del gioco ho investito parecchi soldi su The Giro arrivando a mettere nel 2022 65.000 euro beh questa è una bella notizia nel senso che ha seguito il suo piano d'accumulo sui due RoboAdvisor e ha messo ha investito più pesantemente su The Giro intanto un bel po' di soldi 65.000 ha messo di qua 2.000 al mese su ciascuna piattaforma ha messo non ricordo sulle altre due comunque ha investito un bel po' di soldi 65.000 su The Giro vai bravo Marcello quindi mi sono esposto tantissimo di più quest'anno sui mercati rispetto agli scorsi anni è stata una scelta consapevole e ne sono soddisfatto perché appunto i mercati sono scesi molto ovviamente non ho investito immagino tutti quei anche Zanetti Marcello ma io stesso io però un po' più di storia un po' più di esperienza che magari non so con quanta convenzione si raccontano o mi racconto anch'io sì sono scesi va tutto bene però magari sono 4 anni che si investe ancora i ritorni non si sono visti e può essere un po' doloroso però quando la borsa si riprenderà alla grande saremo contenti di aver investito in fase di contrazione se lo troppo da non poter più continuare a farlo in maniera normale i prossimi anni ma si sui B utilizzo la versione web in realtà come dicevo ho investito più la LAP nel fondo nell'ETF S&P500 di 3 case fondi differenti no perché S&P500 Marcello che cioè fai Word perché S&P500 cioè l'America non è tutto il mondo è magari il 50% del mondo però perché limitarti a S&P500 comprati 3 differenti iShares Amundi e se non sbaglio Invesco vorrei controllare esattamente sì sono i più grossi che esistono non ho fatto devo dire una ricerca accurata di quale sia il fondo sull'S&P500 più conveniente ho comprato i più comuni andando su quindi tre differenti ETF su S&P500 non mi sembra il massimo non mi sembra molto utile sì ha diversificato sul rischio di fallimento dell'emittente di fondo però qui parliamo di cose veramente che fallisca una emittente di fondi è molto difficile anche Credit Suisse che è una banca che emette fondi anche che va giù a quella dimensione è difficile che i fondi saltino che tu perda soldi sono cose super regolamentate un fondo che investe in S&P500 non fallisce se fallisce i tuoi asset le stocks sottostanti sono protette se il fondo investe in stocks non ha tipo CFD o altre monnezze non è non ha tipo come era Oval le ETN mamma mia infatti Oval ciao però ecco diversificare tre diversi ETF che investono sullo stesso indice è inutile può aver senso se tu hai cifre molto alte non vuoi avere più di 200.000 sullo stesso ETF su 60.000 ora non so quanta parte di questi 60.000 sono in questo in S&P500 però è un po' troppa diversificazione Federico Pitone a 10.000.000 forse ti dico io ho visto un portfolio di un famoso personaggio italiano dopo l'ho visto con ETF con qualche milione su ciascun ETF quindi c'è gente che non si preoccupa io forse forse a un milione su un ETF ci penserei non a 20.000 su un ETF sul sicuro di questi 65.000 euro non tutti sono investiti sull'S&P500 perché c'è un'altra setta di soldi fai un 10.000 euro forse un po' troppo li ho utilizzati come fun money come soldi per il divertimento quindi soldi che ero disposto a perdere ok fun money quindi qui su The Giro 65.000 di cui il 10% a cazzeggio e il resto su 3 ETF S&P500 Marcello potresti far di meglio potresti far di meglio ok vuoi essere 100% azionario ok word word sei perso il resto 50% del mondo quindi potrei fare un singolo ETF word a quella cifra poi sopra i 200.000 ci penserai a diversificare si dice nel mondo degli investimenti investi ciò che sei disposto a perdere in realtà è una cagata tu devi investire tutti i soldi che non utilizzi perché non è stato tenere il suo conto in barca quindi non puoi essere disposto a perdere tutti i soldi bravo bravo questo qui detto anch'io mille volte risentiamolo se non mi cresce tutto quanto risentiamolo nell'ETF SP500 curata di quale sia il 65.000 euro non tutti sono investiti sull'SP500 perché un'altra fetta di soldi fai un 10.000 euro un po' troppo utilizzati come fun money come soldi per il divertimento quindi soldi che ero disposto a perdere si dice nel mondo degli investimenti investi ciò che sei disposto a perdere in realtà non è cagata tu devi investire tutti i soldi che non utilizzi perché non è stato tenere il suo conto in barca quindi non puoi essere disposto a perdere tutti i soldi se li investi bene in maniera diversificata con dei portafogli sensati non devi essere disposto a perdere quei soldi tutti e saperi tenere fino a quando sarà il momento di disinvestire che ti hai riferissato che sei 20 anni 10 anni quando si parla secondo me bravo bravo bravissimo applauso lo dico sempre quelli che dicono investi ciò che sei disposto a perdere in genere li stanno per proporre un investimento scam in cui in cui se li perdi oh sei disposto a perdere investi in questa in questa piattaforma di cripto sto cazzo che dà il 10% al giorno però ho solo i soldi che sei disposto a a farti rubare non ha senso questo discorso ha senso come ha detto Marcello non ha investi ciò che sei disposto a perdere è stupida come frase eventualmente i fan money anch'io li ho anch'io compro iolo delle call delle put delle meme stocks quelle sì quelle fan money sono ludopatiche sono diciamo soldi che sono disposto a dargli fuoco e quasi tutti gli do fuoco per il resto gli investimenti seri non sono disposto a perderli sono soldi che investo per il futuro e il moltiplicare per zero non mi piace quindi investi ciò che sei disposto a perdere sicuramente si parla di asset molto molto rischiosi per esempio comprare le singole azioni che è molto molto più rischioso perché comprare un epifazionario perché le singole azioni non sono diversificate non possiamo vedere come in nessun modo io le ho comprate perché sono un po' scemo ok fino adesso Marcello nei due robot advisor e nei tre fondi SP500 ancora singole azioni non ne avevamo viste con i suoi fan money si è divertito a comprare singole azioni va bene così va bene così Marcello ha un cash flow altissimo ha comunque il resto del portfolio abbastanza più ragionevole di quello di Zanetti ad esempio e ci sta che con un po' di soldi fa iolo e compra vediamo un po' se dice cosa ha comprato che questa roba non la considerano anche investimenti però ho comprato un po' di azioni Amazon un po' di azioni di Tesla tutto tech ho comprato nell'anno poi tante azioni di meta ecco forse l'investimento più grosso sono in meta tutto tech ho arrivato quasi a 5000 euro sul totale quindi un po' troppo perché io credo in meta più o meno non mi piace tantissimo come azienda ma penso che continuerà a crescere non solo nessuno va bene va bene cioè tutto tech in genere i giovani tech ok aspetto però però ho visto che è scesa così tanto anche per un discorso di pessime relazioni pubbliche per cui impercepito di meta è molto basso e per cui man mano che scendeva io la compravo è arrivata a dei prezzi veramente così bassi che non si potevano comprare purtroppo io però l'ho comprata però è molto emotivo cioè uno dovrebbe fare comunque cioè se sta razionalizzando dicendo secondo me la scelta è scesa troppo troppo basi non si poteva non comprare questo ce lo dice un'analisi fondamentale non l'emotività però va bene lo stesso fan money anche prima per cui ha un po' il discorso di body dip però continua dipping body dip body keeps dipping ha un po' il problema l'ho fatto con i miei fan money si chiama catching the falling knife si intende come raccogli un coltello mentre cade cioè l'azione sta cadendo pensi che sia il bottom lo prendi ti fai malissimo e continua a cadere to catch the falling knife è il termine tecnico per voglio comprare basso la compro e continuo a scendere che avevo già predisposto per quello io le ho finite il prossimo anno non avrò altri fan money da buttarci per cui quelli sono quelli rimangono ecco non prendetemi come sempre su questa cosa qua perché è sbagliato quelli giusti sono quelli investiti nell'SP500 che il prossimo anno non saranno più investiti solo nell'SP500 ma diventando una cifra considerevole quella che mi si da sud di giro inizierò a fare anche un pack più sensato sugli altri ETF ETF mondo ETF emergenti ok ok non è che ha una cifra più alta deve diventare più sensato potevi già farlo prima però va bene ottimo ragionamento va benissimo dice Marco Zamboni è sceso troppo non si può non comprare è come Credit Suisse che si perde il 50% al giorno e basta più o meno e forse qualche maledì da prima ma direi basta comunque come ho detto prima è bilanciato sull'azionario parliamo adesso di criptovalute criptovalute è solo un asset class diciamo a parte che i vari RoboAdvisor penso neanche considerino perché esistono degli ETF esposti sulle cripto ma non penso che nessun RoboAdvisor investi in quelli là ho fatto un video intero sulle cripto dove riassumo un po' tutto il mio percorso l'ho fatto a fine 2021 è ancora valido guardatelo se volete sapere più o meno la mia storia vorrei schippare un pochino ho scelto l'anno però come al solito con un passivo tempismo perché peggio del mercato normale è andato solamente il mercato del criptovalute con un po' di anticipo rispetto ai mercati normali perché già da dicembre era sceso molto era i massimi storici prima di dicembre era 60.000 il prezzo di bitcoin è sceso più o meno a 40.000 a dicembre in quei giorni ho deciso ho comprato a 40.000 un po' come con meta ha continuato a scendere io ho continuato a comprare man mano che scendeva per abbassare il prezzo medio di carico e per cogliere anche un po' l'opportunità il bitcoin però adesso andiamo su coin market crap andiamo sul bitcoin sta dando un po' di gioia credo se pigliamo un anno un po' di gioia la sta ridando a chi piace speculare sul bitcoin non dico investire ma ho fatto da 16.000 a 28.000 e via quindi i miei 50 dollari di bitcoin ora saranno 80 mi sento già emozionato dovevo vedere l'equilità proprio per questa occasione proprio per un ribasso io volevo espormi sulle cripto non sapevo quando e quindi vedere un ribasso mi ha dato l'occasione di investire grazie io so quanto continua a scendere quindi non ho potuto investire troppo ma sono arrivato a fine dell'anno a investire più o meno 60.000 euro a differenza di porca miseria Marcello è veramente tanto so ce ne abbiamo parlato so che tu credi nel mondo cripto però è tanto è tanto è tanto fino adesso se parliamo di 65.000 di qua qui ne abbiamo 90 stiamo a 155 stiamo a 215 in tutto 60 è più o meno il 25% è tanta esposizione di cripto e anche qua finora abbiamo solo stocks cripto e questa roba qua è più o meno 80% stocks 20% non stocks tra cui bond altra roba portfogli molto molto aggressivi molto 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 aggressivi again Marcello giovane cash flow altissimo ci sta che sia aggressivo ok po' troppo po' troppo po' troppo i mercati nazionali le cripto sono scese dell'80% per cui io comunque ho un investimento che è forte perdita adesso sono le cripto sono più o meno con un controvalore di 40.000 euro su 60.000 ma sono in realtà che è un gioco perché sono sicuro che sul lungo termine andranno a salire o meglio io sono una di quelle persone che crede che le cripto non spariranno però la scommessa è quella le cripto nel futuro lo spariscono o se vanno vanno bene secondo me poi non sono consapevole potrebbero anche galleggiare non è detto che lo spariscono vanno bene non è detto potrebbero galleggiare per un bel po' e sparire magari fra 20 anni lentamente un po' alla Montepaschi di Siena alla Credit Suisse senza finanziare autorizzata io penso che bisogna avere in portafoglio una patta di cripto io adesso sono sovraesposto infatti il prossimo anno non ne comprerò altre ok bravo a meno che non continui a scendere tipo a prezzi minimi ma ormai è molto stabile secondo me prezzi minimi e poi se non dovessimo esserci in realtà va bene così prezzo minimo di cripto è zero però dobbiamo avere la mentalità si disposto a perdere ciò che sta investendo invece quello che si è disposto a perdere perché a differenza delle altre set class le cripto sono nuove allora il 25% è troppo che comunque un minimo ci spiega che su archi di 30 anni è sempre salito di una certa percentuale in media abbiamo molti più studi e sulle cripto noi appunto dovremmo essere pronte all'evenienza che tutto sparisca in un batter d'occhio quindi ma solo sei pronto a perdere il tuo investimento alle 60.000 euro si sono una persona poco avversa il rischio poi comunque tutti gli altri investimenti che invece sono molto molto più tranquilli e all'unico rispondo a questa bellissima domanda di Mr. Rip qual è il limite dell'aggressività non rischia di perdere troppo ora che è sulla cresta very good point io parlo di Marcello come anche di Zanetti che hanno un altissimo cash flow sono giovani guadagnano tanto quindi hanno dei savings molto alti e quindi ci sta che sono più aggressivi però non parliamo di di persone che non lo so ma parliamo di chi lo è non parliamo di persone che hanno garantito un futuro a cash flow altissimo no ma ripeto chi lo è non so forse il figlio di persona famosa che ha industria non so un ferrero un giovane un ventenne benetton qualcuno che ha un po' garantito è più facile che per i prossimi 50 anni abbia un cash flow altissimo qui parliamo di content creator la cui vita è appesa a un paio di come dire siamo un po' a un bad PR dall'essere dal scomparire cioè un influencer se ne fa con un'uscita brutta e sparisce per cui non è garantito che Marcello e Zanetti per i prossimi 100 anni guadagneranno tanti soldi per cui per questo sicuramente non sarei così tanto aggressivo quindi la domanda di mister è c'è un limite all'aggressività sì non te lo so quantificare però il concetto è che pure se sei giovane con crash flow della madonna a un certo punto ha senso che 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 una parte dei tuoi risparmi vadano verso un questo è proprio un fondo pensione tradizionale da qui a al futuro good point con che piattaforme ho investito appeso ad un paio di click come sapete io la primissima che ho conosciuto sarà Coinbase che ormai è l'exchange di criptovalute più famosa grande al mondo ho utilizzato quindi Coinbase per investire un po' durante il ribasso in realtà l'ho utilizzato in concomitanza con Young Platform che è un altro exchange che ho conosciuto personalmente soldi digitali tutto comunque sempre tutti tutti i giovani cripto entusiasti ma nessuno che c'è il wallet il cold wallet da qualche parte quindi decentralizzazione i fondatori è molto affidabile italiano non mi sponsorizza e l'ho utilizzato ma ho utilizzato anche Tineba Crypto quando l'ha lanciato quest'anno per provarlo per vedere com'era inoltre avendo io il conto premium di Tineba ho delle commissioni molto basse nel mondo del crypto un po' il problema sono le commissioni per essere le commissioni di tutti in assoluto Young Platform ce l'ha comunque per chiudere Tineba adesso ma c'è un pochino più basse perché prodotto appena lanciato e quindi ho differenziato tra queste tre cose quello che devo fare un obiettivo per il 2023 è avere il mio portafoglio fisico con le crypto se tu non hai le chiavi del tuo portafoglio di Bitcoin o di Ethereum o di quello che è tu non hai veramente la proprietà degli asset che è differente sui Rumble Advisor se Tineba dovesse fallire se Moneyfarm dovesse fallire comunque quegli asset finanziari sono i miei il conto economico dell'azienda e i soldi investiti gli asset investiti sono separati se l'azienda fallisce non può attingere dai portafogli dei propri clienti è una roba che non può fare sono tutelati sono garantiti le crypto invece sono il selvaggio west il mio portafoglio non è mio ma è di Coinbase se Coinbase fallisce se lo porta a casa si non è l'unico problema questo qua però ci sta anche che se regga di exchange per questo Moneycoinbase è comunque un exchange quotata in borsa quindi se vogliamo ha un po' di regolamentazioni che la la come si chiama uh security exchange comincia la SEC americana un po' controlla quelli altri che ha menzionato hanno meno regolamentazioni far west per davvero però ok è un rischio il portafoglio se ne va insieme all'azienda ed è esattamente quello che è successo con FTX il caso che conoscete FTX analogamente agli altri exchange che ho citato è un exchange in cui le persone compravano scambiamo criptovalute Coinbase era meglio di FTX le tenevano sull'exchange esponendosi quindi al rischio di fallimento l'exchange è fallito e si portano a casa i soldi di milioni di risparmiatori milioni di miliardi forse miliardi miliardi di dollari ho fatto un video riguardo anche su quello ed è per questo che io non tengo soldi su Binance Binance è gigantesco più grande penso anche più diffuso di Coinbase le possibilità che fallisca sono molto 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 basse penso la cosa buona di Coinbase è che anche se è un po' più costoso rispetto agli altri è commissione un po' più alte è più istituzionale ha più garanzie è un pochino più un pochino meglio rispetto agli altri mi fido ancora di più dell'età di Amplast comunque è ancora di più di TNAB questo perché le criptovalute le fa gestire le fa custodire da Chexing a quel punto allora nel caso TNAB dovesse fallire le mie criptovalute sono in salvo perché sono custodite durante terzo che è Chexing tema della custod... vabbè non conosco bene i dettagli di questa roba qui però eccola per investire in cripto comunque paghiamo bei costi alti di gestione commissioni di trading una storia particolare c'è chi dice foto anche il video riguardo con con la metano c'è chi dice meglio avere le proprie chiavi perché sono mie ma c'è chi dice no perché se poi te le rubano stai fottuto meglio che le chiavi vengono custodite da un ente terzo io penso che il prossimo anno farà una via di mezzo terrò in parte di TNAB in modo che siano custodite su Chexing in parte le terrò si farei per averle là e in parte le terrò in un mio portafoglio personale penso che quello sarà quello che farò nel futuro non ho detto quale ha senso anzi una volta che hai certe cifre in cripto ha senso che tu un po' impari a gestirtela in prima persona con tutti i rischi che comporta ma anche con la gioia anche con la proprietà delle cose il non pagare costi di ogni tipo e così via io se avessi quelle cifre in cripto o in percentuale dal mio patrimonio sicuramente cercherei di capire un po' come gestirmela in proprio e non farle gestire ad altri le criptovalute io ho comprato solamente bitcoin e ethereum un 70-75% di bitcoin e un 20-25% uguale a zanettico sono in perdita su entrambe ma non è assolutamente un problema perché anche con loro ho una visione di lunghissimo termine perché non avrò bisogno in futuro non pianifico di aver bisogno di disinvestire i miei investimenti per quello erano 60 mila io tengo i miei soldi liquidi per quando avrò bisogno di soldi liquidi tutti i soldi che io investo pianifico che spariscono dalla mia testa e se ne riparla quando avrò 40-50-60 anni se non di più cavolo è veramente tosta questo video non vi ho parlato in questo video delle mie partecipate in aziende private perché non sono asset liquidi che posso gestire a piacimento come sapete ho una piccolissima percentuale in Blink Who startup di cui vi ho parlato spesso sul mio canale una minuscolissima partecipazione anche in Outoff una società che si occupa di maschere da sci tecnologiche ma come sapete ho il 50% di Flatmates la mia agenzia quella è la grossa azione quindi anche Marcello parte in crypto parte in private equities parte in public equities molto poco in bond vediamo cosa manca comunque è un valore e il 100% della Marcello Oscar che anche quella è un'azienda privata queste partecipazioni sulla carta sui soldi dei monopoli hanno un bel valore in realtà per ora non ci posso fare niente quali sono quindi i miei piani per il 2023 pianifico di bloccare il mio piano d'accumulo per il RoboAdvisor ho affiancato il mio piano d'accumulo con i miei investimenti autonomi per il 2022 ormai mi sento abbastanza sicuro da continuare solamente con gli investimenti autonomi significa che disinvesto su MoneyFarm e dire assolutamente no io tengo i soldi che ci sono quindi gli investimenti continueranno Sunk Cost Fallacy se non sono prodotti fantastici e se in proprio fai meglio con su DeGiro su un altro broker come sono povero MrRip slash IB tenerli lì solo perché già stavano lì non ha senso dovrò continuare a raccontarvi le performance perché non spariscono semplicemente smetto di metterci i soldi su continuo a investire autonomamente non so onestamente se su DeGiro o se su Interactive Brokers potrei cambiare sono tentato oppure fareli entrambi ma anche qua per compararli per vedere o vedere altre piattaforme perché ne esistono veramente tante altre e qui dicevo a cancare il link affiliato Interactive Brokers è mio è mio e non aumentare i miei fan money quelli sono quelli che rimangono non posso aumentarli per le cripto pianifico ma perché non aumentare i fan money se hai un cash flow alto il prossimo anno qualche cipino vuoi mettercelo non è un crimine dico di fermarmi perché sono sovraesposto con le cripto come avete notato io predico bene adesso sono male io predico che più del 10% del proprio portafoglio investito in cripto non dovresti averlo io adesso in cripto appunto ho investito 60.000 euro con un controvalore di 40.000 per cui non ho né 600.000 né 400.000 in totale investiti per cui ho un po' troppo per cui adesso blocco la parte di criptovaluta una cosa che mi piacerebbe fare è iniziare a investire con il conto aziendale per farlo potrei farlo con l'interactive broker non posso farlo con DeGiro perché i conti aziendali sono più complicati e bisogna di moltiplicate documenti non ho avuto tempo di farlo nel 2022 né troppa voglia perché appunto i flussi di casa sono un po' più complicati non vorrei dovremmi ritrovare ad avvisare davvero ok parentesi grazie Swag Quax Marcello ci ha raccontato più o meno del suo patrimonio personale come ha investito abbiamo più o meno per fare i conti in tasca parliamo di circa 250.000 euro più racconta di avere un anno di spese come cuscinetto d'emergenza non so quantificarlo perché le sue spese sono molto strane in quanto se consideriamo che le spese che fa per lavoro sono altissime le spese individuali sono pochissime per cui potrebbe essere sicuro che avrà magari 20.000 euro come cuscinetto perché le spese che paga lui Marcello sono molto basse perché paga quasi tutto l'azienda i suoi viaggi tutto ciò che riguarda il lavoro lo paga l'azienda quindi in teoria parliamo di un'altra cifra X che potrebbe anche essere bassa e avrà della liquidità oltre a quella lì del cuscinetto d'emergenza quindi abbiamo una visione di una parte del patrimonio di Marcello ovviamente da lì mancano le private equity che nel suo caso sono a differenza di Zanetti che abbiamo visto prima possono essere altissime perché 50% di flatmates magari potrebbe anche valere milioni questo non lo sappiamo potrebbe valere milioni sulla carta valgono tantissimo ci sta che possono avere milioni il 100% della Marcello Ascani SRL o la Marcello Ascani SRL della 100% amici della 100% il 100% della sua SRL personale vale quanto vale un'azienda che non penso potrà vendere però se la stessa azienda in questo momento ha nei conti corrente mezzo milione quello vale la Marcello Ascani SRL almeno il book value lo dovrebbe valere quindi non sappiamo quanto c'è lì dentro immagino sono belle cifre per cui ha spesso raccontato che fattura molto con la Marcello Ascani SRL si dà uno stipendio basso perché magari non ha senso avrà ottimizzato gli aspetti fiscali però comunque quello che c'è in Marcello Ascani SRL e il 50% di flatmates di valore secondo me sono il grosso del suo patrimonio quindi questi altri 250.000 che abbiamo visto sono tutti fan money ok sono tutti fan money e li sta investendo non malissimo non malissimo abbastanza ragionevole ragionevole ho visto di peggio si può migliorare ovviamente ma non è malissimo non è malissimo a mio avviso farei meno di RoboAdvisor con l'esperienza che ha maturato farei meno di RoboAdvisor nel suo nel suo portfolio sul broker che DeGiro o qualunque altro decida di avere cercare un asset allocation un po' più conservativa un 80-20 almeno qualcosa che più si addice a lui la parte azionaria sarei un po' più global e non sarei tanto SP500 che mi sembra non ragionevole e e e e la parte crypto la terrei contenuta a una percentuale non superiore al 10% che però ha detto ha detto che ora sono sovraesposto al prossimo anno vorrei non continuare a investire come un pazzo quindi non comprerà però se le crypto hanno una bull run e raddoppiamo di valore si troverà che farà ribilancerà l'investitore razionale dovrebbe dire ok le crypto sono raddoppiate ora vendo un po' di crypto e compro altro ribilancio qualcosa mi dice che non lo farà però vediamo ok andiamo a vedere finiamo bisogno di liquidità col conto aziendale per non poterlo avere però qualcosina se ho tempo perché è un po' complicato aprire il conto aziendale con Interactive Broker se ho tempo lo farò quindi in totale i miei investimenti ad oggi sono più o meno un 40.000 di TINAB più 40.000 di Money Farm siamo 80.000 più 40.000 in credito siamo a 120.000 più 60.000 un po' di più 200 un po' di più se avessi capito di giorno in giorno cambia perché i mercati cambiano ma siamo a 180.000 200.000 investiti che sono veramente un sacco di soldi non immaginavo di arrivare così presto a così tanto patrimonio investito però quest'anno come dicevo può essere un anno particolare perché fino allo scorso anno avevo la metà semplicemente ci sono andato giù pesante perché le borse sono andate giù e per me questa sarà una occasione di entrare nel mercato a prezzi più bassi sperando che nei prossimi anni non continuiamo ad andare giù ma si fermi a un certo punto questo ragazzi penso sia tutto controllo di averne tutto perché c'è veramente tante cose da dire se avete dubbi se non avete capito qualcosa vi consiglio appunto di guardare i canali di Investiamo che l'ho creato insieme a TINAB guarda lì guarda lì guarda chi c'è guarda chi c'è qua sotto guarda chi c'è guarda chi c'è ordinali per popular ordinali per popular ma la verità è che l'ho fatto perché è un mio sogno nel cassetto ci tengo molto a quei video sono fatti molto bene vi danno tutte le basi per capire perché perciò qualcosa sia il format finanza semplice ma anche il resto vi aiuta molto e anche la mia playlist che reaccio lunghissimo guarda lì si vede aggiornamento perché perciò mi sono pulito le cose capirete molto meglio quello di cui parlo questo video non è sponsorizzato quindi non vi lascio niente in descrizione a livello di questo sponsorizzato tanto di servizi ne ho parlato e niente ci vediamo ora è molto pulito non è sponsorizzato anche se alcuni servizi che lui usa li ha sponsorizzati in passato non vedo affiliazioni ma onesto pulito bravo ormai direi il prossimo anno col prossimo aggiornamento degli investimenti nel prossimo video di guadagno questo era quanto ragazzi ciao ci vediamo ok interessante spero di che vi sia stato d'aiuto Federico Vidone chiede da zero a Marcello Scani Marcello Scani quanto è bravo ad investire da zero a Marcello Scani in una scala che va da zero Marcello Scani è Giovanni Come secondo me